Quindici Frutti e generi alimentari Frutti e generi alimentari Benìm bircile in mar Io ho una fragola Io ho una fragola Io ho una fragola Io ho una fragola Benìm bir kiwim ve bir kavunum var Io ho una kiwi e una melone Io ho una kiwi e una melone Io ho una kiwi e una melone Io ho un kiwi e un melone Benìm bir portakalim ve bir greyfordum var Io ho un'arancia e un pompelmo 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 Benìm bir elman ve bir mangon var Io ho una melone Io ho una melone Io ho una melone E un mango Io ho una mela Io ho una melone E un mango Benìm birble Io ho una banana e un ananas. 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 Io preparo una macedonia. Io preparo una macedonia. Io mangio un tost. Io mangio un tost. Io mangio un tost. Io mangio un tost. Io mangio un tost con il burro. 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 e marmellata. Io mangio un toast con burro e marmellata. Io mangio un tramezzino. Io mangio un tramezzino. Io mangio un tramezzino. Ben margarinne bir sandvici yorum. Io mangio un tramezzino con la margarina. 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 e pomodoro. Io mangio un tramezzino con margarina e pomodoro. Ecmec e pirinze, ihtiacimiz var. Abbiamo bisogno di pane e riso. 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 Abbiamo bisogno di pesce e bistecche. 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 Abbiamo bisogno di pizza e spaghetti. 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 Di che cosa abbiamo ancora bisogno? 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 Abbiamo bisogno di carote e pomodori per la minestra. Abbiamo bisogno di carote e pomodori per la minestra. Abbiamo bisogno di carote e pomodori per la minestra. Abbiamo bisogno di carote e pomodori per la minestra. Abbiamo bisogno di carote e pomodori per la minestra. Abbiamo bisogno di carote e pomodori per la minestra. Dove troviamo un supermercato? Dove troviamo un supermercato? Dove troviamo un supermercato? Dove troviamo un supermercato? Dove troviamo un supermercato?